Da giovane garzone di un piccolo negozio a numero uno dei venditori ortofrutticoli di Milano, la storia di Dino Abbascià sembra venire fuori da un romanzo. A 13 anni lasciò la sua biceglie per emigrare al nord in cerca di fortuna. Nel 2015, quando una malattia lo ha portato via all'età di 73 anni, la società da lui fondata fatturava oltre 10 milioni di euro, con più di 30 furgoni che trasportavano ogni giorno frutta e verdura per le strade di Milano. La città di Biceglie ha voluto onorare la memoria di uno dei suoi figli più illustri, intitolandogli il mercato ortofrutticolo comunale. È stato un esempio non soltanto di imprenditore coraggioso, di professionista, di giovane che è emigrato a Milano nel dopoguerra e che da solo si è fatto strada e ha dimostrato coraggio, tenacia, una forza di volontà incredibile, ma è anche e soprattutto un esempio per tutti, un esempio per i più giovani, dando loro la speranza di poter governare la propria vita e di puntare sempre al meglio. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti tanti amici di Dino Abbasciada, al cantante Albano Carrisi, al presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, per tutti un imprenditore illuminato, ma anche una persona umile e generosa. Io non potrò mai dimenticare gli occhi di Dino, Dino è più che con la parola parlava con gli occhi, erano occhi che brillavano, brillavano soprattutto nei confronti degli altri. Dino è sempre stato uno che ha voluto dare più di quanto abbia ricevuto e questo per me è la cosa più bella che porterò sempre nel mio cuore. Simbolo di un sud che ce l'ha fatta, Dino Abbasciada non ha mai dimenticato chi non ha avuto la sua stessa fortuna, facendosi promotore di diverse attività benefiche. Un grande lavoratore, ricordano i familiari, dotato di lungimiranza e grande capacità di innovare il suo settore. Abbiamo tutti collaborato assieme per questa nostra azienda, levandoci la mattina presto e lavorando tutti i giorni, noi con lui che tirava di più di tutti, perché io lo chiamavo il nostro ministro degli esteri, perché lui sapeva parlare, sapeva fare, aveva contatto con tutte le persone importanti di Milano e di Biceglia.